Eccoci qui riuniti, è uscito Among Us col pesce d'aprile e come vedete i personaggi diventano lunghissimi Potete pensare male in mille modi diversi, io dovrò cercare di contenere il family friendly in qualche modo ma non lo farò E vi voglio far sapere che il colore conta, cioè se noi cambiamo colore, letteralmente cambierà la nostra altezza Potete pensare male, potete pensare bene, Kendall è il più piccolino Ma non è giusto? No, col giorno divento più piccolo Ecco il verde come sono Ma sono ancora piccolo No, no, ti stai alzando un botto, oddio Io non voglio neanche commentare Non deve diventare un audio per TikTok Esatto, mi limiterò a ridere Cioè finché nel video va bene, non deve uscire da qui Io mi rimetto questo che è il secondo quad Aspetta, ma che ha prontato Kendall God Eh, guarda Hai fatto progressi, sei andato in palestra Sono il più piccolo Sono il più piccolo, ok, fiera, ok, sei ancora Ho mangiato tanti spinaci e sono andato in palestra Venite tutti qui che vediamo? Mettiamoci in ordine Vai in ordine di altezza, in ordine di altezza Un attimo, mi sto cambiando le vesti Io ho anche due cappelli, così sono ancora più aspetta Tutta a sinistra, caprotta la più bassa Ok Ora siamo in fila per te Sembriamo l'icona del campo Sembriamo l'icona del campo Sembriamo l'icona del campo Bellissima Esatto Ma facci la nemica mi fa scassare Le tacchette del telefono Benvenuti in questo video, possiamo iniziare Cosa cambia? Tendenzialmente nulla Però so che c'è un'animazione particolare Dove viene preso a colpi E potete Iniziamo Iniziamo No, non dirmelo Iniziamo È quello che penso E cosa? Niente Niente L'animazione Le testate Eh, esatto Eh, sì, sì È quello il punto, è che non sto testata Io non ho capito se gli sviluppatori sono stati consci Secondo me sì Penso di sì È perché un pesce d'aprile quindi l'hanno fatto apposta per trollare un po' velata, capito? Noi accettiamo questa trollata bellissima Ma comunque purtroppo è disponibile solo per una settimana Perché altrimenti forse avremmo tenuto questa versione per sempre Ma fa nessuno? Abbiamo dieci secondi Amici Vi prego Eh, io sono da tutt'altra parte, sto correndo È finita È finita È finita Non ci credo L'abbiamo perso Dai, non è possibile Non è andato nessuno E perché? Ma c'è ma Ecco, Marci, Marci, l'ha fatto all'ultimo L'ha fatto all'ultimo Marci Siamo salvi Potrebbe essere anche lui l'impostore Ha detto, no, non voglio perdere il match fin da subito Eh, potrebbe, certo Anche se è impostore In realtà voglio continuare a giocare Eh, io ho fatto una corsa perché stavo dall'altra parte della mappa Io ho fatto già un sacco di task Sono bravissimo È altissimo È stupendo Però io voglio vedere l'animazione Dell'impostore con Dokilla È qualcosa di incredibile Però forse non Ma come? Ma come quello che ci ha salvato? Colui che ci ha salvato dall'emergenza Guarda che ci sono i soli colli Sì, non si vede neanche la faccia Posso dire, io e Steph eravamo safe Stavamo facendo entrambi una missione Nel momento in cui è morto Cosa hai visto? Io ho visto una fe Cioè l'ho vista molto bene Perché era lunga e l'ho vista particolarmente da attraverso i muri Che veniva da caffetteria dove c'era il cadavere Ah Il cadavere era a caffetteria È Nico, ragazzi Nico Cioè sta incolpando a caso Siccome Kendall non fa queste giocate così intelligenti È Nico Ma Quando non faccio niente Allora, potete parlare più veloci perché dall'alto non vi sento? Sì, certo Scusami Com'è il meteo lassù? Classica È duvuloso È duvuloso Ma ti metti per caso i piedi a mollo la sera per crescere così tanto? Ma quanto latte bevi? Vabbè, è schifo Partiamo malissimo oggi Io voto per Ah, votate Fate quello che volete Tanto state sbagliando Quindi Sì, sì, sì Poco mi importa Vai, vai È interessante Votate Io ho visto tutto col mio collo lungo Vai, vai No, vabbè Abbiamo la portata aumentata Perdete pure la partita, tranquilli Hanno rotto le scatte da far sempre questa di emergenza 1, 9, 6, 5, 5 L'altra non lo so, però ragazzi fatela Io non riesco più a far task Eeeh Cioè devo sempre correre da una parte all'altra Io ho visto Kendall Cosa cavolo è successo? È crashato Kendall Ed era giù l'impostore Era Kendall e l'impostore No, ed è crashato No, ed è crashato No, non c'è Abbiamo vinto Abbiamo vinto Non ci credo Ma ci posso chiederti se l'animazione della kill è quella lì? No Era molto interessante l'animazione della kill Ma è crashato Kendall ed era lui? Sì, era lui Ma io lo sapevo già Ma non ero io! Sì, sei crashato Sei crashato E abbiamo vinto la partita Sono crashato anch'io Ah, quindi era Carly? Allora Il problema è se quei due continuano a crashare Come succede sempre Effettivamente quei due crashano sempre Eh, su Minecraft possono rientrare E qui col cavolo finisce la partita Solo se sono impostori però Eh, sì E poi di solito su Minecraft quando recano con noi Tipo crashano ogni 20 minuti Eh, quindi speriamo di avere altri 20 minuti Adesso dovremmo avere 20 minuti Sì, speriamo Non lo so, già abbiamo il countdown per giocare Eh, non lo so La mamma che stacca la corrente Nooo Voglio essere chillata Voglio vedere l'animazione Eh, dai Meno fraintendibile Ah, ok E' Marci E' Marci Chi ha ucciso il povero staffo? Perché sto io, scusate? E' Marci Sei stato tu perché Ho visto che anziché fare le missioni Sei andato dritto da un'altra parte E c'erano delle missioni Ah, potrebbe essersi shapeshiftato qualcuno Come prima Carly Visto che era Fede che mi ha ucciso No, no, io sto parlando Io sto dicendo proprio Ha inizio partita Ah, ma c'era lo shapeshifter Eri davanti a me Eri davanti a me Eri davanti a fare le missioni Ma io poi sono andato sotto Tu sei andato a destra Ecco perché Nico mi stava accusando Questa è la mia bravura in Among Us Guarda Marci Come subito ha detto che c'è shapeshifting E come si deve saperlo? Perché prima appunto avete incolpato Fede E infatti io dicevo Mi ha ucciso Fede E invece Esatto, poi sono stato ucciso Ah, ok Io voglio ringraziare chi mi ha ucciso Perché ho visto l'animazione Sono contento E' interessante Sembra tipo una kamehameha Scusa, visto che stai parlando da fantasco Ma perché caproto? Posso dire che non sei tu? Non so, io sono safe Dai, dillo che non so Uh, attenzione Vediamo se il mio intuito funziona Siete proprio degli strombi Siete proprio degli strombi Vediamo Siete veramente Siete veramente degli stromboli Io non ti ho votato Io ringrazio comunque Marci Io ti ho ucciso perché tu hai chiesto di essere ucciso Io ho apprezzato Mi chiedo se giocando in sei Partite così veloci Prima o poi questo gioco mi farà la donazione numero uno Chi lo sa Magari sto bleffando Ma io vedo i colli degli altri Non ci credo Da dove? Ma lo vedi il collo giù? Di chi stava in admin a fare la task? No, non ho notato questo dettaglio Vedevo il collo che usciva fuori dalla mappa Capito? Voglio vedere il collo Ok, faccio questa Ho paura di fare che ha smesso di parlare No, no Sto semplicemente facendo robe Perché hai paura? Non lo so Stavo, ero concentrata perché voglio cercare di beccare i colli delle persone Attraverso i muri Salve Cosa è successo? Continuo a seguirmi Salve Stalking Ragazzi Kendall mi seguiva e non ha fatto nessuna kill Quindi No, no, no Si sta vendicando Allora, calmi Calmi Ho chiamato per vedere uno se era morto qualcuno Due per darvi un'informazione che ha scoperto fare interessante I colli si vedono attraverso le stanze Quindi tipo Se tu sei ad ossigeno E c'è la gente da Tu vedi i testoni Sì, esatto Ti ho visto fare la task Ho visto Quindi Grazie papà Steph Per essere L'impostore Perché potrebbe comparire una testa di troppo Eh ma non può Adesso Se tu sei giù un impostore Io c'ho un'altra news importante Ho sbloccato l'achievement 100 incarichi Wow Porca miseria È quello dell'impostore Comunque voto l'onico Non vuoi fare una serie come quella di Minecraft Dove fai tutti gli achievement Oh Dove platini Amo un boost Non sarebbe divertente Con blocco Viene buttato fuori? No Purtroppo No, devono essere tre voti Attenti a quei due Attenti a quei due Attenti a quei due Attenti a quei due Allora, facciamo subito la taschettina di admin Io ho messo tante task Perché comunque l'impostore Ha vita difficile Però C'è un impostore un po' brombolo Sono d'accordo Che potrebbe essere fare O potresti essere tu che tratta Giocando in un altro modo Ma io Sarebbero già morti tre player Bellissimo Non c'è nessuno E c'è una strategia in atto O vero? Ecco lo sapevo Lo sapevo Cioè ragazzi Una kid Calmi a tutti Calmi Non c'era le luci Calmi 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 Ho visto abbastanza Io so chi è Che questo sia il primo match che dura Oppure faccio il detective No no finito il detective La finiamo? Vado a te Io ho paura di crashare Perché sta mentendo Raga l'ha fatta lui la kill L'ha fatta lui sicuro Non esce così E ne sta approfittando perché sta mentendo Bastano due voti E poi qualcuno l'ha vinto Vediamo se stiamo usando uno strombo Poverino È perché vi avete detto di far finire il match Eccoci qua Volevo farli colpare te Cara Devi mangiare Guarda sei un pagliato Devi mangiare un panettone al giorno per 70 anni per battere il nostro giochetto La colomba La colomba per questo periodo Conosciamo troppo bene Non fa più a giocare a mongus Raga Cioè non ci possiamo più mentire Avete notato che sono a 5 match su 5 No? Bello eh? Bella la verità Eh te l'ho rubato io al posto prima Ah sono contento eh Anch'io non lo sono mai Anch'io non lo sono mai Basta zitto Vabbè Tre volte di fila record di March Steph ma tu hai un puzzino Lì dietro? Sì E non ci dici nulla? Me l'hanno regalato ma non so da cosa Cioè non ce l'avete tutti lo puzzino disponibile? Sì io ce l'ho Avete sentito che ha detto di nuovo quello lì? Sì Ma non ti fidare Sto trollando Sì sì Volete buttarlo fuori? Ma per sicurezza quasi quasi No dai non partiamo in 5 Fatevi scemi Allora Inizia Cosa stai spammando? Più 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 Ah ecco cosa stai spammando Più 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 Ci sta ci sta Eh dovevo essere veloce Le tasche vanno veloci Quindi stavo spammando Download Nessuno è andato a fare le luci? No non ne ho voglia An tutti vorrei morire qua Esatto Allora Devo andare No chi è il Ciano? È stato Kendall Ragazzi Kendall l'ho visto L'ha ucciso Marci è stato Allora era shapeshiftato Sei un bugiardo Marci Mi stai cercando di salvare Stava facendo lo scanner Ma gli ho detto Aspettando Kendall God Quindi è safe Allora o sei tu O è Fero e Steph Marci Perché stanno sparando tutti Marci? Non l'ho ancora capito Mi spiegate cosa è successo Non l'ho capito neanche io niente Avete solo sparato nomi Tu hai visto due Kendall? No Dico Marci Tu ovvio che l'hai visto due Kendall È stato come tutto il tempo E perché ti hai incolpato? Perché mi vuole buttare fuori Perché secondo me era shapeshiftato raga Ma che sei a di Mi hai seguito dall'inizio della partita Lo sai Ti sto dicendo che non sei tu Sta dicendo che non sei tu Che è stata uccisa caprotta Da Kendall shapeshiftato Esatto No l'hai detto questo prima Stava dicendo quello Non lo sto capendo io Boh raga non lo so Quindi per me A mani basse nico punto Anche nico Ma che c'è nico? Secondo me sono Steph Ho fatto uno skandar Fianco a Kendall Eh ma poi ti sei staccato da noi Io non lo voto nico Perché sei tu Steph per caso Perché è Steph Parle se Steph Io non voto nico Non mi killo uno Perché sono io Bella mossa Come me hai accorciato il tuo collo? No preferivo non troppo lungo Ho capito Perché fa comodo forse Perché se no poi lo vedono oltre e muo Che cosa fa comodo? Ma è ma che cosa fa comodo per farli Siete degli strombi maledetti Per farle kill Essere più corti Eh Steph Votate Steph È lui Mi ha votato È lui Votate Io ho seguito nico Sei tu? Non l'ho capito No ma non ho capito Allora hanno fatto un casino incredibile E non ho capito che cavolo stavano dicendo alla fine Perché Marge ha detto all'inizio che era Kenda Erano tutti confusi Infatti sembravano sussi in primis loro Ma infatti l'hanno giocata malissimo Eh hanno iniziato a spararle tutte Non si è capito nulla Qua Vabbè Allora Facciamo Da questa parte Quante tasche Esagerato Finiscono più Io non vedo più nessuno da sacco di tempo No Hanno ucciso Marge No era Kendall Ecco dove eri All'elettrica Salve Tu dove eri Perché è la seconda volta che reporti il corpo Nico Aspetta È la seconda volta che reporti il corpo Nico Qui c'è un gomblotto Perché ce n'era uno il reattore di voi Vi ho visto da admin Io ero il reattore Stavo facendo le task Non è vero È Steffo raga Ma è Nico È Steffo È Steffo Ma chi è Nico Oh Era Fere? No non sono io Siete tutti degli strombi Non sono io Mamma mia Mamma mia A nessuno fate vincere da impostore oggi Non va bene Oggi non si vince Oggi non deve vincere l'impostore Quella con Spider-Man Era troppo sus Steff Finalmente Steff Hai pagato l'abbonamento Sì finalmente gli ho dati 5 euro al mese